Oh, eccoci di nuovo! Benissimo! Cuociamo gli ultimi lombrichetti, li mettiamo in cottura, un po' pochini, però ce li facciamo bastare. Eccoli qua, li mettiamo in cottura e nelle nostre patelle prepariamo due condimenti diversi. Uno lo faremo semplice semplice con il nostro pomodoro, l'abbiamo visto prima, e l'altro ci metteremo le melanzane a piecolino, ok? Facciamo cuocere tutto. Le patelle sono bollenti, ok? Allora, il nostro pomodorino che abbiamo preparato prima, lo ricordate? Bene. Qua mettiamo in sostanza il pomodorino e qua mettiamo il pomodorino e le melanzane a cui detto sono preparato prima. Allora, melanzane è semplicemente fatta a finito, tagliate a dati, risolata un po' di aglio, messa in padella, fatto soffriggere, risolate le melanzane, un pochino di sale, le melanzane sono pronte, in modo molto semplice. Quindi le mettiamo prima il pomodoro, e poi mantecheremo con il pecorino, il nostro bel pecorino di prima. Bene. Eccoli qua. Due due li facciamo con un pochino di pomodoro, soltanto col pomodorino, pochino di alferino. Semplici, semplici, col soggetto che abbiamo fatto, che è spettacolare anche soltanto quello, eh? Te lo posso assicurare. Ecco qui. scotta. Scotticchia, la padella scotta. Ci mettiamo un pochino di quello che abbiamo fatto, ecco qua, mettiamo solo poco poco qui, proprio una colpettata per preparargli così, questo modo. Ecco qua, semplice, 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 semplice. grazie per Pop. Buon weekend anche a te. Grazie, Violetta, sei gentilissima. Detto da una donna, poi fa molto piacere, te lo posso assicurare. Molte grazie. È arrivato chi mangia. Un attimo arrivo. Eccoci di nuovo, è tornata subito subito. Ecco qua. Allora, questi sono pronti, che li possiamo togliere. Ok. E qua mettiamo quelli con le melanzane. eccomi. Eccomi, non sono sparita. Eccomi di nuovo qua. Mettiamo in patonda. E ci siamo, abbiamo finito, per questa sera abbiamo finito. Sì. Sotto morto. bellissimo. Grazie, Orazio, sono molto gentile. Possiamo spegnere l'acqua. Ok. Ecco qua. Anche con le nostre belle melanzane abbiamo fatto, adesso finiamo la mantecatura con il pecorino e siamo pronti. Ecco qua. Siamo pronti. Prendiamo il cuoco e un po' di formaggio e il gioco è fatto. e un po' di formaggio ecco qui. Mettiamo un pochino, figuriamo un pochino il piatto. Il basilico. E siamo pronti. Ecco qua. Eccoci. Bene. Allora, queste sono quelle semplicemente... Cosa sto... Eh, Orazio, ho cucinato diverse cose questa sera. Ho fatto dei lombrighi e li ho preparati in diversi modi. alla pescatora, con le cozze, pistacchio e pecorino, mazzancolle, basilico e pecorino. Pecorino la ho fatta da padrona questa sera. Qui abbiamo invece semplici, semplici, solo col datterino colorato. E queste sono invece con melanzane, pomodorini e pecorino, ovviamente. Bene. Per questa sera abbiamo terminato. Un saluto a tutti quanti. Un bacio, un abbraccio. Alle prossime ricette. Ciao, ciao.